Buon pomeriggio, siamo a sala stampa della Camera dei Deputati a presentare questa iniziativa di un vasto cartello di associazioni che si occupano di salute mentale, di diritti civili e ritorno agli OPG, i rivoli, gli ospedali psichiatri giudiziari. Con noi sono presenti l'onorevole Cecilia Delia e l'onorevole Vito De Filippo e in collegamento l'onorevole Riccardo Maggi che avranno adesso subito la parola per presentare gli emendamenti all'articolo 32 del decreto legge cosiddetto energia che ha introdotto inaspettatamente e in modo davvero strambo una norma nell'ambito di un decreto che doveva occuparsi di energia, di questioni eventualmente urgenti rispetto alle gravi vicende che stiamo attraversando, invece si occupa di ristabilire vecchie regole, vecchie logiche legate agli ospedali psichiatri giudiziari. Io sono Stefano Cecconi, rappresento il comitato, l'osservatorio Stop OPG e parlo a nome di questo cartello di associazioni che ha promosso la conferenza. Tra un attimo do la parola ai due deputati, i tre deputati anzi che hanno presentato gli emendamenti e sono ringraziati per questo, per la sensibilità e per l'attenzione a questo che potrebbe sembrare una questione marginale vista l'urgenza e le drammatiche vicende che stiamo vivendo. Invece si tratta di una questione assolutamente rilevante perché noi nel 2014 con una legge molto importante, otteniamo un processo molto complicato, siamo riusciti a far chiudere i manicomi giudiziari, l'ultimo valuardo della logica manicomiale che nemmeno Basaglia era riuscito definitivamente ad abbattere. Ci fu all'epoca un gran lavoro per proporre al posto della logica manicomiale che stava nei contenitori per i matti autori di reato dei percorsi di vita e di cura alternativi alla detenzione e principalmente fu questa la scommessa. Certo, l'occasione abbiamo dovuto, abbiamo accettato, abbiamo ragionato sul fatto che ci fossero necessarie anche strutture adatte a eseguire le misure di sicurezza di tipo detentivo per i casi estremi in cui non era possibile eseguire misure non alternative alla detenzione, ma la via maestra che ha ispirato questo nostro lavoro era quella della 180. cioè l'idea che cura e custodia delle persone che commettono reati e hanno problemi di salute mentale non stiano bene insieme, se no c'è una miscela negativa. Per questo abbiamo spinto moltissimo, senza nessun buonismo peraltro, perché appunto ci fosse una progressiva parificazione tra le persone con problemi di salute mentale che commettono un reato e le persone che commettono un reato a prescindere dalle loro condizioni di salute mentale. Anche per questo, e chiudo, credo che questa vicenda della proposta che viene avanzata in questo decreto di aumentare i finanziamenti e i posti delle strutture detentive delle REMS destinate agli autori di reato con problemi di salute mentale, prosciolti ma con pericolosità sociale, guardi in realtà alla questione più profonda che è quella che già poneva Basaglia, cioè il diritto di cittadinanza delle persone con malattie mentali. Ed è per questo che abbiamo inteso non soltanto presentare emendamenti che permassero l'ipotesi che la risposta ai bisogni di cura e di riabilitazione delle persone con problemi di salute mentale e autori di reato si riscontrasse e si reperisse soltanto con nuovi luoghi speciali moltiplicati all'infinito, in fondo dei piccoli manicomi. In questo caso destinati a un'area particolare del nostro Paese, alla Liguria, una sorta di contenitore speciale che dovrebbe accogliere tutti i matti autori di reato che da varie parti d'Italia dovrebbero essere lì convogliati in una logica davvero preoccupante di anche deportamento in qualche modo. Ma più profondamente la cosa che va posta ed è quello che anche faremo dopo questo appuntamento è quella di abolire il doppio binario, questa legge speciale, questo statuto speciale che costringe i folli rei autori di reato, appunto, a un trattamento particolare che non è riservato agli altri cittadini. Quindi si tratta, si tratterà più avanti di abolire quelle norme del codice Rocco che sono sopravvissute ancora per fino alla legge 180 facendo in modo che le persone che commettono un reato vadano in giudizio, vengano giudicate per quello che hanno commesso e non per la malattia che hanno. E in base a questo sono poi destinate certamente anche un'esecuzione della pena, come giusto che sia. E nell'esecuzione della pena trovino però pieno rispetto di quello che la Costituzione prescrive, cioè il diritto alle cure e alla tutela della salute che va assicurata a tutti i cittadini. Con questa logica abbiamo provato anche oggi a battere un colpo come società civile per dire che queste operazioni di restaurazione di fatto, di ritorno alle vecchie norme, sono scorciatoie pericolose perché ci riaprono esperienze che abbiamo già vissuti. I manicomi giudiziari sono stati una delle peggiori esperienze della nostra Repubblica. Dobbiamo fare in modo che non ritornino più. Prego, la parola quindi a... Sì, grazie Stefano. La storia è per molti aspetti nota, per molti aspetti anche infamacante. Io ricordo come riecheggiavano parole di autorevoli rappresentanti delle istituzioni a partire dal Presidente della Repubblica sugli ospedali psichiatrici giudiziari che erano l'ultimo pezzo del superamento del sistema manicomiale che ancora permaneva nel nostro paese con grande disonore per la società, la civiltà, la democrazia, la libertà che questo nostro paese sa interpretare mediamente e che aveva avuto anche una stagione formidabile anche nel superamento del sistema manicomiale nelle altre parti del sistema manicomiale. Quindi ogni arretramento operativo, legislativo, mi sentirei di dire addirittura linguistico diciamo su questa materia, può celare sostanzialmente un ritorno al passato, ad altre articolazioni, ad altre operative iniziative. Le REMS fanno parte direi totalmente del sistema sanitario del nostro paese, devono essere in qualche modo luoghi di recupero, di riabilitazione. Gli ergastoli bianchi sono state una parte dolorosa, drammatica, della storia giudiziaria del nostro paese. Quindi ci appare strano al di là del veicolo normativo nel quale è stato collocato il finanziamento e questa rubrica con questa strana dizione che la REMS sperimentale che non esiste nella normativa del nostro paese, al di là del veicolo che purtroppo il Parlamento certe volte ha necessitato ad utilizzare anche veicoli normativi non conformi, ma noi abbiamo presentato con la collega Maggi abbiamo presentato un emendamento soppressivo proprio per evitare che anche in termini di rubrica, in termini terminologici ci fosse una opacità o una oscurità che in qualche modo ci può riportare indietro nel tempo. Il processo di superamento dell'ospedale psichiatra e giudiziaria è stato ampiamente compiuto, c'è un dibattito in corso anche sull'organizzazione delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, come fa a evolvere addirittura questo sistema verso approdi ancora più innovativi come il dibattito della psichiatria ma non soltanto del sistema sanitario ma anche della politica sta sviluppando nel nostro paese, quindi ci sembra un arretramento veramente fuori misura e noi speriamo che il governo accolga la nostra proposta immediatamente. Grazie, come raccontava l'onorevole De Filippo, questo decreto è appunto in commissione attività produttive e ambiente di cui io faccio parte attività produttive, quindi è stato inserito all'interno quest'articola, all'interno di un decreto che riguarda il caro bolletto, il caro energia e come spesso avviene, vengono inserite anche norme, ci sono anche dei finanziamenti su Covid, per gli interventi che riguardano la sanità e questo a me sembra anche la cosa singolare, però non perché si parla appunto di una REM sperimentale e quindi non di un semplice finanziamento della legge che c'è e quindi mi sembrava doveroso, segnalato a Vito e a colleghi della sanità, abbiamo deciso di presentare questo emendamento che fa due cose sostanzialmente, da un lato leva la dizione sperimentale, lascia i finanziamenti, non entra nel merito dei finanziamenti alla Regione Liguria e dall'altro quindi lascia i finanziamenti però in relazione alle misure, alla rete dei servizi per l'esecuzione delle misure di sicurezza e in questo modo cambia anche il titolo dell'articolo, perché al di là dell'esistenza o meno del doppio binario, su cui non ho neanche la competenza, insomma non sono, questo vale il vostro giudizio, la vostra esperienza, il tema è che comunque anche nel doppio binario la REMS è un estrema razio e invece così non è e questo è anche il tema delle liste d'attesa, è molto difficile uscire anche dalle REMS e quindi era anche questo emendamento cerca anche di mettere la REMS tra le misure, non la misura e quindi e adesso noi oggi dobbiamo fare commissione ma è stata rimandata perché mancano ancora i pareri del governo su molti degli emendamenti quindi credo che comunque tra domani e dopodomani questa discussione in commissione ci sarà e in questa settimana si chiude, quindi vediamo nei prossimi giorni come ci risponderà il governo. Naturale, è anche giusto che sia così. Grazie a voi, Franco Corleone. Credo che Riccardo Maggi ci ascolti e qui ci dopo interverrà. Ecco, dopo, ah ecco come sei ridotto. Se è possibile per voi dico due cose ora così poi mi congedo sull'emendamento. Va bene. Grazie, intanto mi scuso per non essere lì con voi ma insomma non sono in forma ottimale ma no mi preme solo ribadire quanto già è stato espresso dai colleghi che sono intervenuti. Un primo livello diciamo di un primo piano di problemi è quello diciamo di tipo giuridico e anche di tipo costituzionale. Insomma più volte la Corte Costituzionale, il Presidente della Repubblica, il Comitato per la Legislazione della Camera dei Deputati hanno stigmatizzato la prassi di inserire all'interno di decreti che nascono con altre finalità degli articoli completamente eterogenei rispetto alla finalità del decreto. Ora questo non bisogna abituarsi a questo evidentemente, bisogna continuare a segnalarlo e a stigmatizzarlo perché altrimenti avanti di questo passo gli strumenti normativi stravolgeranno e avranno un impatto negativo anche sul ruolo del Parlamento inevitabilmente perché poi bisogna considerare come nel 99% dei casi ormai i decreti possono essere modificati in commissione oppure arrivano direttamente in aula dove viene messa la fiducia sia in un ramo che nell'altro del Parlamento. Ma in questo caso in particolare, questo articolo 32, voi dovreste averne lì le copie e potete vederlo e anche eventualmente chi della stampa ci sta seguendo, ha una impostazione come dire di prospettiva che va in contrasto con tutte le finalità della legge 81 del 2014. Questa è la cosa ancora più grave, cioè che si inserisca con uno strumento assolutamente disomogeneo rispetto al contenuto del decreto, però una misura che è così insidiosa rispetto a invece le finalità che noi dovremmo perseguire, che sono quelle che sono state già dette. Intanto la residualità dell'uso della REMS come residenza e poi la voce che un po' è circolata è stata, beh, insomma qui c'è la lista d'attesa e quindi ecco questo è l'altro pericolo che va evitato, intanto perché come sapete, come già è stato detto, non è certamente la Liguria che ha questo problema e poi perché evidentemente la struttura innovativa, diciamo così per non dire peggio, della REMS sperimentale viene surrettiziamente introdotta in questo modo. Ora, per chiudere, il governo ha la possibilità di fermarsi e di tornare indietro e anche di farlo accettando uno di questi emendamenti che abbiamo messo sul tavolo e che consentirebbero di evitare questi danni importanti. Sullo sfondo resta la prospettiva del superamento del doppio e binario e quindi la proposta di legge che abbiamo depositato sempre con il vostro aiuto, con l'aiuto dello stesso cartello di associazioni che oggi abbiamo l'onore di ospitare alla Camera e che ci hanno anche segnalato questa criticità nel decreto energia. Evidentemente in quello che resta di questa legislatura forse, diciamo, in tutta evidenza non c'è modo per affrontare quella questione, ma io spero anche con l'aiuto dei colleghi che ci sono qui oggi intanto di cominciare a far aumentare il numero delle firme e di colleghi che sono in sottoscrizione della proposta 2939 che è proprio quella per il superamento, diciamo, del binario speciale delle misure di sicurezza. Grazie. Grazie all'onorevole Magi per questo ulteriore contributo che conferma la battaglia che stiamo facendo appunto per tornare all'origine, al senso della riforma gentile che ha chiuso gli OPG. Franco Corleone. Grazie all'onorevole Vito De Filippo che era sottosegretario dell'approvazione delle leggi 981 e che portarono appunto alla chiusura degli OPG. Grazie a Cecilia Delia e a Riccardo Magi. Mi ha telefonato l'onorevole Gennaro Migliore che forse arriverà più tardi e quindi siamo nei tempi giusti per porre sul tavolo questa questione che ha una rilevanza straordinaria perché in tempi difficili in Italia si è fatta una rivoluzione, cioè la chiusura del manicomio giudiziario. Una volta si chiamava manicomio criminale, poi era stato battezzato come OPG, ma insomma era la stessa cosa. Era un luogo che non aveva poi nulla di ospedale, era un manicomio e un carcere assieme. Devo dire che pochi si preoccupavano di questa vergogna e anche quelli che oggi si preoccupano che alcune persone prosciolte eh siano in carcere in attesa del posto in Rems, probabilmente non si sono mai scandalizzate quando migliaia di persone erano nei luoghi orrendi di Barcellona Pozzo di Gotto, di Aversa, di Montelupo e via via l'elenco degli OPG che eh marcivano in una sorta di ergastolo bianco eh per una pena senza fine. Allora mettere in discussione una riforma così eh importante di civiltà, di umanità attraverso un sotterfugio, cioè l'inserimento di un emendamento che eh produce un'espressione in pura libertà, quella di Rems sperimentale in Liguria a Calice al Cornoviglio in provincia di La Spezia, in montagna, in un luogo inaccessibile nella stagione invernale è veramente inaccettabile. Come è potuto accadere questo? Noi eh sappiamo che c'è una ormai maleducazione istituzionale, per cui quando c'è un decreto si cerca di inserire anche qualche norma che non c'entra nulla, ma in questo caso lo si è fatto senza alcun pudore perché noi ricordiamo che una operazione del genere fu compiuta dalla da Carlo Giovanardi quando era responsabile della politica del governo sulle droghe, inserendo nel decreto sulle Olimpiadi Invernali di Torino la legge sua e di Gianfranco Fini per l'indurimento della scelta della scelta proibizionista e punitiva con il passaggio a considerare tutte le droghe una cosa sola e con quindi un aggravamento delle pene detentive estremamente pesante e non solo. Questo c'era molto altro in quel testo infilato nel decreto sulle Olimpiadi. C'era però almeno una veste di parvenza di legittimità perché nel titolo del decreto si faceva accenno a una norma che riguardava i detenuti tossicodipendenti perché riguardava l'abolizione di efficacia per i detenuti tossicodipendenti della legge Cirielli che era stata appena approvata per tutti i detenuti sulla possibilità di cioè sull'obbligo di restare rigorosamente in carcere senza possibilità di accedere a misure alternative sulla base di quell'articoletto e di quel titolo fu inserita questa montagna della Fini-Giovanardi 27 articoli eccetera. In questo caso nel decreto si parla di risparmio energetico di tutto quanto ma non c'è neppure un cenno alla modifica della legge 81 sulle REMS. Quindi è un colpo di mano clandestino assolutamente inaccettabile lo ribadisco. Che cosa comporta questo emendamento? È solo un problema di finanziamento alla regione Liguria che si trova in un grande pasticcio fra la REMS provvisoria che funziona bene a Genova e la futura REMS pessima tarceraria che deve essere aperta e quindi in questo pasticcio il governo soccorre la regione Liguria e dà un finanziamento per tenere aperta quella buona e aprire quella cattiva? Non è solo questo. C'è anche il fatto che c'è questa invenzione lessicale di REMS sperimentale che nasconde il vero disegno criminoso e cioè a dire che quella di calice al cornoviglio sarà una REMS che rompe il principio della territorialità. Quindi le persone che saranno ricoverate in quel luogo verranno o dal carcere perché prosciolti o dalla lista d'attesa ma da tutta Italia e quindi si riformerà un luogo che avrà le caratteristiche che ben conosciamo cioè quelle di un ricovero come era l'OPG di persone da tutte le parti d'Italia senza il territorio con i servizi psichiatrici, dipartimenti di salute mentale e la possibilità di relazione per un reinserimento alla fine della misura di sicurezza. Si può dire ma c'è un'urgenza. In realtà noi siamo di fronte a una possibilità di intervenire su lista d'attesa e persone in carcere che sono state attraverso una perizia giudicate incapaci di intendere volere e quindi prosciolte e quindi che non possono stare in carcere perché non hanno titolo di detenzione ma questo problema non è risolvibile con una REMS in cima alla montagna anche perché noi abbiamo avuto una sentenza della Corte Costituzionale abbastanza recentemente che ha affrontato tutti i problemi della legge 81 e ha suggerito alcuni interventi normativi ma tra cui non c'è certo quello di fare una REMS sperimentale con quelle caratteristiche, non ha certo posto in discussione la territorialità, il numero chiuso, eccetera a posto dei problemi seri che sarebbe sicuramente doveroso da parte del Parlamento affrontare con anche delle modifiche per esempio la Corte Costituzionale suggerisce o meglio reputa intollerabili che ancora nel Codice ci sia il riferimento alla condizione di internamento benissimo, noi siamo di quelli che dicono modifichiamo e togliamo questo riferimento sostiene sempre la Corte Costituzionale che occorra agire per la via maestra di legge e non solo per accordi fra governo e conferenza Stato-Regioni è una strada che si può percorrere ma necessita di una discussione politica, culturale per esempio Stefano Cecconi ha ricordato prima che noi abbiamo lavorato per due anni in due seminari della Società della Ragione per predisporre una proposta di legge che è la numero 2939 a prima firma Magi per affrontare proprio il problema della non imputabilità, il doppio binario, il proscioglimento proponendo una via di limpidezza assoluta, cioè sulla base del principio che la responsabilità è terapeutica e sulla concezione che dopo il giudizio sia possibile e auspicabile una misura alternativa nel luogo più adatto per la singola persona per affrontare il percorso del giudizio ma con una misura terapeutica in un luogo adatto il nostro orizzonte culturale è questo può darsi che ancora occorra fare dei passi intermedi li ho ricordati, noi possiamo credo affrontare sulla base delle indicazioni della Corte Costituzionale ma quello che ci preoccupa è che questo emendamento all'interno di questo decreto legge che rischia di essere senza discussione perché finirà, deve essere convertito entro fine aprile e addirittura non ha iniziato l'esame in commissione alla Camera quindi il rischio è che ci sia un testo che avrà la fiducia alla Camera e al Senato senza discussione e noi ci ritroveremmo a fare i conti con una situazione che rischia di inficiare quel dibattito politico-culturale che ho ricordato e che è indispensabile dopo l'invito della Corte Costituzionale di affrontare il problema l'ultima nota, io sono stato per un anno commissario per la chiusura degli OPG tra il febbraio 2016 e il febbraio 2017 in quel periodo si chiusero gli OPG e si aprirono le REMS che erano indispensabili per avviare, per chiudere quella fase di chiusura degli OPG ora io vivo con molta preoccupazione e dolore questa misura del governo perché significa cancellare una vicenda che ha dei caratteri di straordinarietà positiva e faccio parte dell'organismo di coordinamento relativo al processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari che è stato istituito con decreto del Ministro della Salute il 22 settembre 2021 troppo assai stravagante che questo organismo non sia stato investito della questione non abbia potuto dare un parere lunedì prossimo ci sarà una nuova riunione io porrò il problema perché penso che non è possibile che il governo abbia una condizione di così confusione mentale in cui la mano destra non sa quello che fa la sinistra o viceversa io penso che su questa vicenda occorre una grande mobilitazione i coordinamenti delle REMS esistenti che hanno prodotto esperienze molto positive e che certamente da una vicenda come questa troverebbero una ragione di depressione per continuare a fare sperimentazioni positive come sono state fatte non nel segno di una REMS sperimentale di questo genere ma nell'attività di ogni giorno quindi valuteremo cosa cosa fare come azioni di disobbedienza civile e di obbedienza civile invece alle nostre buone ragioni nei prossimi giorni per non con iniziative individuali ma del movimento che in questi anni si è particolarmente affermato per il rigore delle proposte grazie Franco credo che abbia sintetizzato molto chiaramente lo stato dell'arte e le ragioni di questa nostra iniziativa io vorrei però approfittando del fatto che da molto tempo certamente da quando questa riforma è stata provata ma anche da prima ci desse un contributo Daniele Piccione che è stato con noi per lungo questo lungo percorso che ha accompagnato, prego Daniele la chiusura degli OPG prima e l'avvio di questa alternativa al manicomio judiziario che è REMS ma non solo REMS ma soprattutto possibilità di cura, riabilitazione presa in carico nei luoghi della vita quotidiana è questa un po' la cosa che ci turba e che ci agita e che ci porta a questa anche radicalizzazione poi del conflitto sociale, democratico è questa incomprensione da parte di chi ha presentato questo articolo profonda incompressione rispetto alla profondità invece della riforma che è stata attuata cioè l'idea che si possa con un colpo, un tratto di penna adesso neanche più ristabilire la vecchia regola dell'OPG hai un problema, ci sono persone che commettono un reato che sono giudicate incapaci di intendere di volere socialmente pericolose, non ti preoccupare alla magistratura non ti preoccupare un posto dove collocarlo lo troviamo di sicuro e se non c'è posto glielo creiamo appositamente era la vecchia logica dei manicomi giudiziari quella che abbiamo cercato di rovesciare invece dicendo alla magistratura e servizio di salute mentale quello che va fatto in termini custodiali a volte è indispensabile ma quello che conta è provare a organizzare una risposta democratica civile, terapeutica, intelligente restituendo possibilità di cura, di guarigione, di recupero di riferimento sociale a chi altrimenti è destinata a una carriera eternamente socialmente parallela di escluso e questo anche in termini utili alla sicurezza sociale Daniele, la tua opinione, grazie ma intanto grazie per questa occasione e grazie per consentirmi di esprimere la mia opinione su questa vicenda che è una vicenda amara piuttosto amara anche per quello che significa nell'immediato ma a mio parere per quello che significa in prospettiva non voglio ripetermi perché sarebbe questo gli argomenti che ha appena sviluppato Franco Corleone sono oggettivamente inoppugnabili e quindi appunto non mi dilungherò su considerazioni che ricalcano per intero il suo pensiero però ritengo che si debba diventare consapevoli dopo questo testo che abbiamo guardato e commentato di un clima di un clima che va detto, va chiarito va statuito con fermezza è cambiato da quando l'ordinanza del Tribunale di Tivoli investì la Corte Costituzionale di una completa rivisitazione della legge 81 del 2014 siamo stati in molti col fiato sospeso perché naturalmente vi era chi temeva che la Corte specie dopo l'impiego dei poteri istruttori che in qualche modo facevano balenare il sospetto che stesse cercando di comprendere esattamente la situazione materiale alla base dell'applicazione della legge 81 del 2014 per usare una terminologia che si impiegava negli anni 70 ecco c'era questo stridente diciamo così lancinante rumore di conflitto tra due grandi linee di pensiero che con questo emendamento, con questo testo sicuramente si fanno avanti si fanno chiare però una di queste linee dopo tanti anni sembra di colpo all'opposizione da che invece era oggettivamente maggioranza non nel paese soltanto ma nella sensibilità culturale degli operatori dell'ordine giudiziario anche possiamo dirlo senza falsa modestia di coloro i quali sono più sensibili alla cultura dei diritti fondamentali e alle battaglie antistituzionali e in generale alla lotta in esausta contro i luoghi della reclusione e dell'annichilimento della persona umana ebbene quali sono questi due grandi sentieri che si contrappongono? il primo è quello che è arrivato sulla soglia dell'attenzione critica della Corte Costituzionale si riassume in questo semplicissimo ragionamento il problema del controllo sia del folle reo che del reo folle è un problema di ordine pubblico di esigenza di custodia c'è dunque bisogno di più luoghi dell'internamento dopodiché questa linea di pensiero dice li si può chiamare ricoveri li si può chiamare residenze li si può chiamare con altro nome rispetto al concetto di internamento ma sempre di questo genere di posti vi è bisogno cioè dei luoghi in cui si assommi la doppia funzione cioè il controllo verso la pericolosità sociale e poi residualmente dopo la neutralizzazione la cura questa linea di pensiero oggettivamente non voglio dire scomparsa perché non era scomparsa ma comunque certamente riposta in un cantuccio negli ultimi tredici anni quattordici anni della storia repubblicana adesso dunque riappariva e riappariva proprio con l'ordinanza di Tivoli che ha provocato la sentenza numero 22 del 2022 della Corte contro questa posizione e direi assolutamente in posizione e in in ruolo dominante c'era invece il nostro convincimento quello che Franco Corleone ha appena adesso riassunto incanalandolo peraltro verso gli obiettivi più alti l'eliminazione del doppio binario la fine della non imputabilità l'avanzamento del principio secondo il quale la responsabilizzazione diventa fattore di libertà e di integrazione tutte considerazioni preesbiti di grandissimo valore che io sottoscriverei ma che non hanno fatto mancare Franco dal dire ci sono anche dei piccoli passi avanti graduali da compiere subito al di là di queste grandi prospettive riformatrici Franco diceva poco anzi e beh non dobbiamo dimenticare che ci sono anche delle cose da fare subito sulle REMS e alcune di queste cose le aveva dette la corte nella sentenza numero 22 per esempio far sparire questa parola che ormai non può trovare più cittadinanza internamento cioè l'internato non esiste più dovrebbe scomparire non solo dalla disciplina codicistica dove peraltro è ormai solo frammentariamente presente in alcune fasi di ritaglio ma proprio in generale da tutto l'ordinamento giuridico italiano ma non sono solo questi problemi dei diciamo nominalistici a doverci a doverci mobilitare per il tutto e subito e quindi per delle concrete soluzioni immediate però ora dobbiamo dirlo questa era la nota di preoccupazione anche un po' di malinconia che animava l'inizio del mio intervento però adesso noi dobbiamo guardarci da un oggettivo ritorno di fiamma dell'altra posizione una posizione che ora è però è terribilmente concreta perché se questo emendamento che abbiamo visto sorgere peraltro con le correttissime riserve che avanzava Franco Corleone Pocazzi cioè una totale estraneità rispetto al testo del decreto legge su cui insiste beh è evidente che siamo risospinti indietro siamo risospinti indietro a contrastare queste visioni custodialistiche che sono ormai fuori tempo e perché sono fuori tempo cioè perché le nostre sono buone ragioni vincenti e soprattutto attuali e pragmaticamente valide da cui non diciamo fermarsi ma presso le quali costruire quegli obiettivi di medio lungo periodo che Franco così bene descriveva però il problema è che adesso noi dobbiamo rintuzzare questo questo ritorno di attenzione per queste pose custodialistiche che pensavamo consegnate ad altri tempi concludo dicendo quali sono le tre ragioni delle quali queste posizioni ancor prima che illegittime costituzionalmente ancor prima che del tutto inopportune in termini di politica criminale ancor prima che assolutamente infondate in termini di lettura del contesto sociale vanno respinte dal punto di vista proprio logico e se vogliamo anche di tutela della salute come diritto fondamentale interesse della collettività e l'articolo 32 della carta repubblicana ricordiamolo pone in cima alla vicenda delle persone che vivono l'esperienza del disturbo mentale anche se hanno commesso un reato o perché hanno il problema del disturbo dopo aver consumato il delitto cioè il reo folle come si diceva con un'espressione icastica antica oppure perché proprio hanno commesso il delitto in questa condizione di difficoltà dovuta all'esperienza del disturbo ebbene le ragioni principali per cui questa posizione è irricevibile oggi sono queste la prima direi quasi scontata ai nostri occhi che però non dobbiamo stancarci di ripetere quando si cerca di risolvere il problema della salute attraverso la costrizione la coercizione l'istituzionalizzazione la reclusione il problema della salute non solo non si risolve ma si aggrava la vecchia dottrina della malattia istituzionale di cui bene parlava Franco Basaglia negli anni settanta è un dato reale non è un come dire un'invenzione sociologica passata di moda è perfettamente ovvio che se io vivo l'esperienza del disturbo acuto dal punto di vista del mio contesto di vita questo disturbo diventa assolutamente insostenibile esplosivo e causativo di una trasformazione certamente impegius se vengo internato o ristretto quindi il tema è che il controllo nell'istituzione totale non è compatibile con la cura la riabilitazione e il miglioramento delle condizioni umane che la persona deve vivere per uscire dalla acuzia del disturbo prima considerazione a mio parere del tutto obiettiva evidente poi c'è la seconda idea di cui benissimo parla la corte nella sentenza numero 22 perché questo la corte lo evidenzia a chiare lettere ovvero risolvere i problemi applicativi che la legge 81 del 2014 ha in parte confermato non che ne abbia creati lei di autonomi ma dei problemi che certamente non era in grado di risolvere ipso facto con un cambiamento normativo non si possono a forziori oggi risolvere semplicemente aumentando la capienza dei posti letto e qui la corte parla talmente chiaro veramente sfugge come si possa trascurare quella pronuncia e presentare un emendamento come quello e magari anche accoglierlo perché lì l'idea lo diceva benissimo Franco ma la spiegava anche una pletora di persone di gente che ha cercato di leggerlo in controluce il significato lì si vuole proprio creare una sorta di figura di internamento che sta un po' sopra al principio di territorialità che si era così ben sviluppato nella legge 81 del 2014 e quel principio di territorialità ovvero sia di vicinanza al tessuto sociale di appartenenza della persona che vive il ricovero in REMS è un principio fondamentale perché è chiaro che se io restringo nella libertà personale un individuo deradicandolo proprio sradicandolo dalla sua condizione sociale di appartenenza di provenienza di genesi se vogliamo anche del disturbo è evidente che non ho nessuna chance di risolvere alcuni dei suoi problemi e questo emendamento invece immagina una sorta di super REMS altro che sperimentale che superi questo problema della territorialità facendosi bacino di accoglienza e quindi offerta di posti letto super partners cioè al di là della dimensione territoriale di appartenenza del singolo e quindi è due volte sbagliato non solo perché fa da calamita e da avanzamento dell'offerta di posti letto ma perché li trasforma in posti letto generalisti che trascendono il principio di territorialità stabilito dalla legge 81 del 2014 terza ragione con questa concludo e vi è più assurda questa questo tentativo così apparentemente frammentato e occasionale del legislatore con questo emendamento che sembra trascurare un'altra antichissima lezione di cui Franco citando l'esperienza di quando ha fatto il commissario del super per il superamento definitivo degli OPG così bene illustravo un attimo fa ovvero sia che quando c'è l'offerta dei luoghi della reclusione quando vi sono le possibilità per aumentare il numero dei soggetti ristretti nella libertà personale quei luoghi quei posti quelle residenze si riempiono sempre e quindi l'aumento dei luoghi non fa che aumentare il circolo vizioso complessivo del numero di persone ristrette nella libertà personale non rispondere a una domanda che invece l'aumento dell'offerta essa stessa crea non servono i riferimenti più ampi alla letteratura dell'altro secolo no? in cui questo problema è stato proprio dimostrato per Tabulas ora che nel 2022 con un emendamento del tutto estemporaneo queste regole queste idee questi principi che noi riteniamo divenuti di patrimonio comune vengano falcidiati e trascurati con questa nonchalance beh ci deve indurre a riflettere sul punto della battaglia su cui siamo cioè dobbiamo ancora una volta spendere delle forze per una battaglia apparentemente di retrovia ma che non dobbiamo sottovalutare grazie per l'attenzione grazie davvero Daniele per questa magistrale e sintetica illustrazione delle ragioni che poi hanno portato anche a questa nostra iniziativa e la richiesta ai parlamentari di presentare emendamenti a questo ai noi famigerato articolo 32 la cosa incredibile che ha lo stesso numero dell'articolo della Costituzione che parla della salute come diritto fondamentale io chiudendo anche un po' questo incontro mi pare sì Franco subito ti do la parola per concludere intanto voglio ringraziare Denisa Merini che è qui con noi Leonardo Fiorentini Elena Gentili che ringrazio molto della presenza e Franco se vuoi brevemente o quanto vorrei concludere sì no io volevo solo aggiungere alcune cose noi non siamo per difendere lo status quo noi riteniamo che una rivoluzione come quella che è stata fatta richiede un processo di riformatore continuo fatto di risorse di cambiamenti di motivazione del personale perché io l'ho ricordato mille volte questa riforma ha funzionato perché c'è stato molta passione negli operatori devo dire la maggioranza operatrici nelle nelle rems e quindi bisogna conservare questo questo spirito noi non diciamo che non si deve fare nulla per risolvere i problemi certo bisogna avere però una sensibilità per cui i magistrati chiedano perizie ma si assicurino che quelle perizie siano serie perché troppo spesso le perizie che giudicano una persona incapace di intendere e volere al momento del fatto sono risibili e ce ne sono troppe di decisioni di questo genere secondo noi secondo le indicazioni del consiglio superiore della magistratura noi affermiamo che i magistrati devono trovare delle soluzioni in accordo con i dipartimenti di salute mentale adeguate e considerando le REMS solo per le misure definitive non per quelle provvisoriche questo forse potrebbe essere una modifica di legge che risolverebbe il problema della lista d'attesa e di tutto il resto dei problemi noi confermiamo insomma che il principio della territorialità è uno dei quattro punti forti della riforma assieme al numero chiuso ecco se magari anche in carcere si adottasse il numero chiuso sarebbe una bella cosa il fatto che la misura di sicurezza non è infinita ma ha un tempo relativo alla durata della pena per il reato compiuto e il rifiuto della contenzione meccanica ecco su questi punti forti si è costruita un'esperienza noi vogliamo noi vogliamo andare avanti implementarla arricchirla e arrivare anche a una riforma che dopo 90 anni affronti il blocco del codice rocco questo questo articolo inserito in un decreto legge in maniera assolutamente ultronea invece fa tornare indietro ed è così rischioso che da questa conferenza stampa noi vogliamo dire che inizia una mobilitazione per denunciare un'operazione insensata improvvida e che nella clandestinità si voleva condurre in porto e che oggi è stata svelata qui alla Camera dei Deputati presentando gli emendamenti che invece vanno in una direzione giusta perché dicono quei quei soldi quelle risorse devono andare al rafforzamento del sistema diffuso sul territorio della salute mentale grazie Franco grazie a tutti e la se qualche domanda naturalmente siamo qui e accendo il microfono allora io sono Elena Gentili presidente della consulta dipartimentale della salute mentale dell'ASL Roma 1 quella che fa riferimento al Santa Maria della Pietà allora intanto prendiamo nota che diciamo il sistema politico ha un sussulto di interesse nei confronti della salute mentale perché voglio dire in genere voglio dire essendo poi tutto il sistema affidato alla sanità delle regioni non vediamo diciamo un particolare interesse condivido naturalmente la preoccupazione per questo improvvisa richiesta che riguarda proprio le REMS allora perché stringo sull'argomento a noi io sono un po' in qualità di familiare poi ci sono altre figure naturalmente e noi abbiamo visto dunque tanto assolutamente l'aumento del numero dei posti letto noi abbiamo dal primo momento che abbiamo esaminato questa costituzione delle REMS abbiamo sottolineato come già diciamo nella riforma Basaglia si si dicesse che già più di venti posti letto ricreavano una struttura di disagio cioè si ricreava il manicomietto quindi assolutamente non non poteva essere considerato questo quello che anche noi diciamo verifichiamo lamentiamo è uno scollamento fra diciamo i percorsi sanitari che vengono fatti nei dipartimenti e la magistratura cioè la magistratura è come se abbia perso di vista come voi dite la funzione di recupero di riabilitazione che deve avere qualsiasi provvidenza questo è naturalmente nei percorsi di cura per i nostri utenti ancora di più nei percorsi del ecco di chi ha commesso un reato allora diciamo c'è da rinsaldare una conoscenza anche per un diciamo una barriera un po' da creare nell'opinione pubblica e nella classe diciamo del degli avvocati per esempio che utilizzano questa diciamo affidamento alle REMS e qui c'è il discorso appunto sul riconoscimento del motivo della causa ecco come alternativa a un carcere e per ecco e questo scombina scombina tutto allora termino dicendo che naturalmente che cosa ospitiamo che l'emendamento cattivo sia ritirato non compaia e che si proceda perché è un sistema di attenzione e questo a noi diciamo della salute mentale interessa grazie grazie a lei davvero Daniele Piccione ringrazio veramente per questa domanda che non è una domanda poi infatti la sua è molto di più di una domanda è un'affermazione che mi consente di fare due piccole precisazioni forse un minimo utile allo scopo perché io ho parlato di emendamento non certo perché ignori che si tratta dell'articolo 32 di un testo del decreto legge ma per un altro motivo perché è talmente estraneo al contenuto proprio di questo decreto legge che veramente deve chiamarci ad interrogarci sul perché perché questa urgenza questa straordinaria necessità ed urgenza di introdurlo nel testo di un provvedimento d'urgenza questo suona sinistro e suona più sinistro dopo che la Corte Costituzionale ha statuito tante e chiare cose che servirebbero molto di più di questo di questa di queste disposizioni ma c'è una seconda un secondo elemento questo nasce proprio dalle sue dalle sue parole cioè lei ha detto dice beh questo ha solo un elemento positivo il ritorno d'attenzione guardi che secondo me lei non sbaglia su questo nel senso che ha ragione Franco Corleone nel dire ma noi non è che siamo per la conservazione noi non è che pensiamo che il sistema della legge 81 del 2014 sia il punto di caduta il punto di arrivo perfetto dal punto di vista legislativo così come sul versante dell'applicazione della cura e della riabilitazione noi pensiamo che deve essere migliorato e siamo anche in grado di dire cinque puntuali ipotesi di miglioramento ma non nel prossimo futuro non nella prospettiva di medio periodo adesso prima soluzione trovare delle tecniche per stabilire che la misura di sicurezza detentiva è davvero l'estrema razio cioè fondare il sistema dell'applicazione delle misure di sicurezza provvisorie e definitive non detentive famosa idea della cosiddetta libertà vigilata con contenuti e prescrizioni terapeutiche che era stata anche scritta dalla commissione per l'issero secondo me in maniera magnificamente chiara secondo elemento stabilire un limite massimo di posti letto in ciascuna struttura lei ha detto benissimo ma non perché piccolo e bello per un altro motivo perché la crescita delle dimensioni delle istituzioni del contenimento fa sì che poi la restrizione della libertà personale ne diventi l'unico fine e noi non è certamente questo che vogliamo terzo elemento dirigere l'allocazione delle risorse tutte verso i dipartimenti di salute mentale verso i sistemi di servizio diversificati sui territori per offrire varianti di trattamento che siano escludenti controincentivanti alla restrizione della libertà personale perché se il magistrato giudicante questo ce lo spiegò il CSM quattro anni fa se il magistrato giudicante ha la percezione la sensazione la cultura che sul territorio in cui giudica i servizi sono efficaci verso chi ha compiuto il reato in condizioni di disagio mentale di disperazione di difficoltà allora è chiaro che punterà su un trattamento efficace rispetto al problema genetico del reato se invece il magistrato con la sua sensibilità di persona percepisce pensa che questi servizi arrivano tardi non riescono sono in qualche misura carenti è del tutto chiaro che sarà indotto a scegliere l'altra via che è anche una via comoda per altre ragioni che conosciamo e che ora non mette conto dire quarta soluzione il problema è di individualizzare la misura dell'atta mentale ecco perché questo testo questo articolo 32 vi è più odioso perché proprio decontestualizza la posizione della persona cioè la oggettivizza la manda in una rems in una super rems lontana nel luogo e anche lontana nel tempo e quindi nelle condizioni di trattamento cioè lo sradica la via opposta è proprio quella di concentrare sul territorio di appartenenza il legame che si deve ricostruire con la persona che ha compiuto il reato in condizioni di disturbo non il contrario non spiazzarla per costringerla e recluderla è una cosa che non ha alcun senso quinta e ultima soluzione parola sempre impegnativa ma fino a un certo punto non bisogna avere paura delle parole la formazione gli operatori e le operatrici di cui benissimo parlava Franco devono essere i primi a essere mantenuti in piena consapevolezza dell'importanza di questi percorsi perché se flette l'impegno diffuso automaticamente prolifereranno idee come questa che non bisogna esitare a giudicare malsane grazie a tutti allora per questa iniziativa naturalmente è la battaglia di prendere è tutt'altro che finita grazie 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 grazie